Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 18 giugno. Ariete, non scaricate il vostro nervosismo su chi vi capita a tiro. Razionalizzate e individuate la causa del problema e risolvetelo alla radice. Il clima interiore è tutt'altro che estivo, la luna in cancro oggi inquadrato a Urano vi tiene al gelo. Toro, smentirete la vostra fama di persone dotate di senso pratico, poiché faticherete a distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Tuttavia siete baciati dalla fortuna, la quale vi indicherà la strada che porta dritto al successo. Gemelli, sempre in fermento, grazie a un confronto con gente preparata ed entusiasta, avrete la conferma che i vostri progetti si stanno realizzando. Una giornata ideale per lo shopping, ogni tanto non c'è niente di male ad assecondare la propria vanità. Cancro vi concedete più di quanto dovreste? Fate attenzione perché la luna nel segno oggi è particolarmente permalosa e il fisico potrebbe risentirle. Plutone e Urano le fanno da scorta e non è facile districarsi dalle situazioni di tensione che generano. Leone, ritagliatevi del tempo per dedicarvi ai vostri hobby e alle attività che da tanto rimandate. Ideale conclusione, una serata in allegra compagnia. Il tono è alto, gli acquisti sono azzeccati e in ambito sentimentale le conquiste non si contano. Vergine, un dono inatteso e molto gradito, accompagnato da una lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi. Fate qualsiasi sforzo per creare un'occasione d'incontro con colui che ha significato molto. Bilancia, la quadratura lunare fa prevedere una giornata in salita, per la verità più a causa del vostro malumore che per gli eventi che dovrete affrontare. Per contrastare il nervosismo non croggiolatevi in casa, uscite, incontrate amici, scambiate opinione. Scorpione, oggi che la Luna si pone in posizione di trigono, l'apertura mentale e la capacità di apprezzare le diversità saranno i vostri punti di forza. Anche in amore vi mostrerete meno gelosi e possessivi, accettando qualche compromesso necessario. Sagittario, siete particolarmente determinati e pertanto raggiungere gli obiettivi sarà più semplice. Non disdegnate i consigli di chi può aiutarvi, possibili imprevisti sul lavoro, non scoraggiatevi se qualcosa o qualcuno vi darà del filo da torcere. Capricorno, la luna in cancro vi scarica addosso una pesante dose di nostalgia. Rischiate di rimanere intrappolati tutta la giornata fra i ricordi del passato. Muovetevi, agite, siate propositivi e soprattutto evitate di farvi prendere dal vortice dei rimpianti. Aquario, a volte la famiglia è un ostacolo alla libertà, vi costringe a rivedere i vostri programmi e a mettervi a disposizione. Per amore, questo è altro. Attenti a non lasciarvi sopraffare dagli avvenimenti, provati a gestirli con maturità e senso pratico. Pesci, il trigono della luna al vostro segno, vi rende particolarmente estrosi e creativi. Trezzate le antenne, il vostro intuito non sbaglierà. Tenetevi pronti ad approfittare di un evento inatteso per migliorare o consolidare la vostra posizione sociale. Grazie. 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 Grazie.